Feliz Correia alla Juventus. Dopo Artur, visite mediche anche per il secondo colpo di mercato. Le ultime notizie di mercato raccontano di una Juventus scatenata sul mercato. Oltre ad Artur, oggi sosterrà le visite mediche con il club bianconero anche Feliz Correia. Si tratta di un esterno offensivo classe 2001 considerato uno degli astri nascenti del calcio portoghese. Correia arriverà in bianconero dal Manchester City, nell'ambito di uno scambio con Pablo Moreno, che andrà subito in prestito al Girona. La Juventus non perde tempo sul mercato. Quella odierna non è solo la giornata di Artur in casa bianconera. Il club di corso Galileo Ferraris è pronto ad aprire le sue porte anche a Feliz Correia. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, è chiusa la trattativa con il Manchester City per il giovane talento classe 2001 che dunque si prepara a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Come il brasiliano del Barcellona, anche l'esterno offensivo Lusitano sosterrà le visite mediche prima di firmare il pre-contratto che lo legherà al suo nuovo club. Colpo in prospettiva dunque da parte di Fabio Paratici.